Diego, voglio farti una domanda su un altro giocatore che secondo me ha tanto di te, tanto, le sterzate, come si muove, qualità, top eccetera, Henry Kane. È un giocatore fantastico, fantastico, sì, sì, è una caratteristica, a me sempre mi sono piaciuti gli attaccanti di queste caratteristiche, io sempre stravedo per Ronaldo, per me è stato, dopo mesi… Quale? Diego Cristiano? No, 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 Ronaldo Nassari. Vai a cagare, Vieri, vai a cagare! Per me è stato l'attaccante più completo di tutti, a me sempre mi hanno piaciuto questi tipi di attaccanti, stilo, come ha detto lui, Rudolf Alnister, Karim Benzema, Benzema è stato… Lewandowski. Lewandowski, Henry, giocatori che sono attaccanti, che hanno il gol dentro, ti fanno tanti gol all'anno, ma anche entrano nella manovra del gioco, no? Che sono i giocatori che vengono, poi ci sono le altre caratteristiche che sono fenomenali, no? E qua abbiamo uno che è un giocatore pazzesco, boh, quanti gol ha fatto, no? Madonna mi andava a cagare tutti… Martín Palermo, per dirti un altro… Hai visto come l'hanno…